Subito l'Assemblea dei Sindaci, lo stralcio del progetto di Chianghi dal piano d'ambito del lato e secondo molti pure le dimissioni del Presidente Valentino Tropeano. Incazzata la vittoria giudiziaria Altar, che ha spiegato anche tecnicamente perché l'impianto per l'umido che serve all'Irpino non può essere allocato a Chianghi, i sindaci dell'Areale del Greco di Tufo, che si sono battuti in ogni modo contro il progetto della fascia tricolore di Chianghi e Carlo Grillo, ora vogliono chiudere politicamente la partita. E per farlo bisogna segnare un punto definitivo nell'organismo che rappresenta i 118 comuni irpini sul versante dell'organizzazione del ciclo dei rifiuti. Lato. Per Mario Vanni, sindaco di Altavilla Irpina, è ora di passare ai fatti. Abbiamo già rivolto le nostre richieste al lato, ma è un soggetto surdo. Abbiamo capito che la loro visione non si concilia con le nostre ed è calibrata su un'unica soluzione che però non è praticabile, a meno che non vogliamo prenderci in giro. Quel biodigestore a Chianghi, sottolinea Vanni, non si farà. Ora lato non si metta a fare muro contro muro e un braccio di ferro inutile. Sono fortemente deluso da quei consiglieri regionali che oggi parlano quando farebbero bene a stare zitti perché, continua ancora il sindaco di Altavilla Irpina, se siamo arrivati a questa sentenza è perché loro non hanno mosso un dito. Adesso comunque i sindaci vogliono uscirne definitivamente. Lato responsabilmente prende atto che i percorsi erano sbagliati, compreso il lavoro della fantomatica commissione di esperti. Se non è in grado il Presidente Tropeano si dimetta. Nel piano d'ambito non ci potrà essere un impianto contro il quale si è pronunciata la legge. Si guardi all'Artirpinia. Savignano in primis di certo è tramontata del tutto la possibilità di farlo in un'area agricola di pregio. L'Artirpinia dunque viene additata come un'area più idonea per il biodigestore dell'umido. Un impianto che serve come il pane e se ben fatto creerà ricchezza. Altrimenti sarà il solito disastro, sia al biodigestore dunque, ma nel rispetto del paesaggio e dell'ambiente. La nomina di un commissario per accelerare la realizzazione del collegamento lungo la direttrice Appolo Fortolina tra San Marco dei Cavodi e San Bartomei in Caldo rappresenta un importante passo in avanti per il completamento di un'opera molto attesa dal territorio. L'auspice di veder presto conclusi i lavori dopo anni di lungaggini tecniche burocratiche, richiara la senatrice Sabrina Ricciardi, intervenuta in occasione delle audizioni nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo, recando individuazioni e interventi infrastrutturali presso l'ottava commissione permanente del Senato, di cui è membro. Durante i lavori, la senatrice Sabrina Ricciardi ha posto dei quesiti al vertice della struttura territoriale Campana di Anas, Nicola Montesano, al commissario per la statale 212 da Val Fortora e della 369, Appolo Fortolina. In particolare la senatrice Sannita ha chiesto l'UMI in merito alle tempissime e alle procedure, a cominciare dall'approvazione del progetto esecutivo, per proseguire con il bando e l'appalto per la realizzazione dei lavori del primo lotto, che interessa la variante dell'abitato di San Marco dei Cavodi, suddivisi in tre stralci. Per quanto concerne il primo lotto, primo e terzo stralcio, la progettazione definitiva al risposto Montesano verrà completata entro il prossimo aprile, dopodiché inizierà la procedura dei pareti. Successivamente prenderanno via i lavori della progettazione esecutiva, che potrà essere completata entro la fine del 2021. Dunque, con l'inizio del 2022 partiranno le procedure di carica, che attualmente non durano più di sei mesi, grazie alle novità introdotte dal decreto semplificazioni. Pertanto i lavori dovrebbero partire nell'estate del 2022. Il secondo lotto, invece, che attiene alla variante dell'abitato di San Bartomeo in Caldo, è inserito nel contratto di programma 2006-2020 come intervento programmato ma non finanziato. Ha concluso il commissario. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra la campagna e l'Abruzzo, un incendio patrimonio del volo di oltre 10 milioni di euro, riconducibile a Gaetano Britti, di 75 anni, affiliato di spicco del clan di Lauro. Il provvedimento ablativo, che ha riguardato beni immobili tra i comuni di Napoli, merito di Napoli e Castello di Sangro, è stato emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'Applicazione delle Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione di Settuale Antimafia Partenopea, ed è stato eseguito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Napoli. In particolare, gli specialisti del GICO hanno sequestrato fabbricati e terreni, dopo aver ricostruito come le risorse accumulate nel tempo dalla famiglia, erano state favorite dal rapporto di parentela tra il Britti e il cognato Rosario Pariante, protagonista del cosiddetto cartello scissionista, nel periodo di erosione della struttura organizzativa del clan di Lauro. Prima della contrapposizione armata tra i di Lauro e gli scissionisti, Gaetano Britti, grazie al rapporto di rispetto con il cognato, aveva goduto di un canale privilegiato attraverso il quale gli venivano affidati ingenti somme di danaro, di provenienze illecita derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti e dalle estorsioni, che attraverso una propria struttura organizzata reinvestiva in operazioni di usura, riciclaggio e reimpiego nell'economia legale. Le capacità manageriali del Britti nella gestione del vasto giro di usura sono state presto riconosciute, oltre che dal cognato Pariante Rosario, anche da altri sodali apicali del clan, che gli avevano affidato le proprie risorse illecite per farle fruttare. Le indagini in natura patrimoniale hanno sfruttato le evidenze investigative acquisite in precedenza delle stesse fiamme gialle, l'appartenenza del Britti al suo talizio criminale, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e infine la totale inconsistenza economica dei componenti del suo nucleo familiare, del tutto sprovvisto di fonti legge di guadagno in grado di giustificare il valore economico del patrimonio. Grazie per la visione!